Il penne per entrare in zona playoff e continuare a stupire l'Acqua e Sapone per il primo successo del 2019. Al Galileo Speziale sfida nella sfida tra le due pescaresi caricate a mille dai mister Pavone e Del Gallo. L'allenatore dell'Acqua e Sapone è anche ex della Contesa assieme ai vari D'Amico, Ricci, Palena e Marrone. Fischia di cola di Avezzano e non sarà una partita propriamente semplice per il direttore di gara. Tanti falli e poco gioco. Prima conclusione da segnalare al ventiduesimo con Mario Petito in girata ma lascia scorrere D'Amico che passerà un pomeriggio tutto sommato tranquillo. Il penne si affaccia la mezz'ora con un tiro cross di Rosario Di Ruocco che non trova deviazioni vincenti né da Rosini né da Casimirri. Successivamente Cacciatore teso al centro per Rosini che beneficia di un rimpallo ma spedisce al lato davvero da ottima posizione. Guerra psicologica ma soprattutto fisica. L'ultima occasione del primo tempo è firmata dal solito cacciatore ma Palena non ritiene opportuno l'intervento. Si va negli spogliatoi sullo 0-0 e con la casella dei tiri in porta ancora intatta. Nella ripresa al nono minuto Di Cola estrae il secondo giallo per Ricci dopo un intervento sul classe 2000 Matteo Rossi. Tra i migliori in campo di oggi. Inbestialito l'undici di casa e la panchina verde oro. Passano 120 secondi e a farne le spese è anche Mister Del Gallo allontanato per una parola di troppo. In campo se non l'aveste ancora intuito poco o nulla. Al venticinquesimo rischia di combinare un pasticcio la difesa bianco-rossa ma Petito perde l'attimo giusto. Dall'altra parte ci serve un Alceo Palena versione Superman per negare la gioia del gol a Rossi. Nell'ultimo dei cinque minuti di recupero è Casimirri ad avere la palla della vittoria ma cestina tutto mandando altissimo. È 0-0 tra Acqua e Sapone e Penne che in una partita bloccata muovono comunque la classifica. E di questi tempi non è un fattore da trascurare. Mister Pavone è un pareggio comunque positivo qui a Montesilvano. Avete provato a fare la partita, avete costruito anche discrete occasioni da gol però è mancata appunto la rete. Sì, è un campo che non è adatto alle nostre caratteristiche, è una squadra che gioca molto la palla. C'erano loro, ci hanno messo in difficoltà con i loro punti di forza, ci hanno allungato la squadra, ripartivano, sono stati molto bravi. Anche dal mio punto di vista l'espulsione era molto antecedente perché comunque c'era un fallo da dietro prima. Però quindi loro sono rimasti indiesi, sono chiusi, noi non abbiamo fatto gol il primo tempo e questo un po' ci è condizionato. Mister Del Gallo, 0-0 casalingo contro il Penne. È un punto comunque da prendere in maniera positiva soprattutto perché nella ripresa avete giocato in 10 contro 11. Voglio direi 10 contro 12 perché c'è stato un arbitraggio che oggi non mi è piaciuto per niente. Nonostante siamo rimasti in 10 tutto il secondo tempo, la squadra è stata meravigliosa. L'espulsione voglio rivederla perché mi sembra veramente assurda, prendere un'ammunizione quasi al centro campo su un fallo normale. Altre ammunizioni scelte sbagliate da parte del direttore di gara. Noi continuiamo a lottare, se vogliono che noi retrocediamo, noi non molliamo. Noi vogliamo questa salvezza a tutti i costi e andremo avanti con le nostre forze e con le nostre armi.